Sono Francesco Di Costanzo e questa è Pubblica, la prima docu-serie italiana dedicata alla comunicazione pubblica digitale. In un mondo sempre più connesso, dove il futuro si plasma in binari digitali, pubblica, emerge come il racconto appassionante di una rivoluzione che ha permeato profondamente le pubbliche amministrazioni, dando vita a un mosaico di eccellenti iniziative. Vi guideremo attraverso il metaverso, il nuovo tessuto del web in cui i confini tra realtà e immaginazione si dissolvono, svelando immense opportunità. Al cuore di questa trasformazione c'è l'intelligenza artificiale, la chiave maestra che apre le porte è innumerevoli possibilità e che sta cambiando radicalmente il volto delle pubbliche amministrazioni. In questo viaggio avvincente scopriremo come i social network e le chat di messaggistica ridefiniscono l'esperienza di connessione e partecipazione, trasformando le vostre storie in potenti narrazioni condivise. La pubblica amministrazione si evolve, offrendo servizi digitali più accessibili, semplici e utili. Questo cambiamento cruciale richiede competenza, conoscenza, cultura e consapevolezza. Attraverso interviste esclusive e testimonianze coinvolgenti di istituzioni, imprese e esperti sarete guidati in un viaggio unico, rivelando le trasformazioni in corso. Pubblica è la prima serie italiana che mette al centro il mondo della comunicazione e dell'informazione pubblica, un emozionante viaggio che cambierà la tua prospettiva sul digitale. Pubblica la tua finestra sul futuro.